Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, bomba ovviamente di calciomercato per la panchina del nostro Napoli ieri sera o ieri in giornata, si sono incontrati il presidente dell'Aurentis e Paolo Sosa, attualmente allenatore della Salernitana incontro finito a buon fine, a quanto si dice e a quanto sto leggendo poi nel ricercare altre notizie anche dalla parte granata non viene smentita la notizia, anzi ci sono due cose che volevo leggervi perché sembra che la situazione sia molto chiara e veritiera poi più che altro, finalmente qualcosa di veritiero che poi tutte le chiacchiere che ci sono state tra tutti gli allenatori che sono stati elencati non hanno portato poi ancora a niente di buono, non è che questa sia la trattativa che poi possa portare a qualcosa di buono però tutte le strade convergono verso una verità maggiore diciamo di questa notizia Paolo Sosa a Napoli, allora per Bucchioni addirittura è fatta venerdì in contatto con ADL Iervolino dalla parte granata c'è una notizia, eccolo qua parla De Santis il DS della Salernitana Sosa esercitato opzione ma ha una finestra per scegliere altro il DS dice Sosa è arrivato a febbraio ed ha accettato la nostra sfida ne è uscito fuori un accordo che prevede un'opzione unilaterale per rinnovare il contratto è stata esercitata ma allo stesso tempo c'è la possibilità per l'allenatore di avere un piccolo spazio nel quale si prenderà legittimamente il diritto di decidere se continuare o meno con noi quindi già una mezza verità detta comunque dagli addetti ai lavori granata non possiamo che prenderla per buona l'altra notizia che avevo letto eccola qua da Salerno la società conferma nel calcio non esiste gratitudine il titolo che dà tuttosalernitana.com nulla di certo e di definito ma il trainer portoghese piace a presidente Aurelio De Laurenti se è stato inserito nella lunga lista di papabili originariamente non era una primissima scelta poi però la società azzurra ha deciso di accelerare e di confrontarsi con un allenatore che ha dato tantissimo alla Salernitana ma che era reduce da pessime esperienze e aveva bisogno della piazza giusta per rilanciarsi ma si sa nel calcio non esiste gratitudine ciò detto anche la Salernitana stessa ha confermato che risulta anche a noi quanto scrivono i giornali ecco e si dice pronta a guardarsi attorno a partire da domani quindi la verità c'è e la panchina potrebbe andare a Sosa e chiudiamo con un'ultima notizia e poi vi dico la mia eccola qua le parole di Spalletti di tempo fa Sosa è gradevole colto e ha lavorato in 7-8 paesi e squadre diverse la cultura calcistica è per quello che sta facendo sa dove vuole portare la squadra e sa cosa fargli fare sappiamo che sarà una gara difficile al di là di quello dello spostamento la sarebbe stata comunque e dovremo essere pronti a superare questi ostacoli alti quelle montagne rocciose allora diciamo che è una difesa a 3 non lo so se poi si opti per una difesa a 3 o si faccia comunque con Sosa una difesa a 4 però è la notizia più veridiera di questi ultimi diciamo dalla dalla fine del campionato ad oggi l'allenatore mi piace l'allenatore non mi dispiace non mi dispiace per il gioco che ha fatto con la Salernitana per ciò che vuole esprimere a livello di calcio però sono scettico per questa difesa a 3 cambierà o non cambierà è strano è strano che il Napoli però abbia virato su Sosa in questa maniera cioè sto cercando un filo logico in questo toto allenatori perché trovarlo è difficile comunque questo filo logico il Napoli che fino a ieri stava optando per profili stranieri profili francesi profili italiani a 4 dietro ci troviamo stamattina con la bomba di mercato Sosa può essere il futuro allenatore del Napoli ma l'allenatore non dispiace non dispiace e poi viste anche le parole della stessa Salernitana e degli addetti ai lavori Granata la situazione è più che veritiera e l'incontro che c'è stato ieri con De Laurenti è andato a buon fine sappiamo che Sosa ha un milione di euro di clausola per potersi liberare il risorio ovviamente la clausola è solamente un dettaglio però già dalle parole del DS De Santis ci può tranquillamente essere l'opzione nel contratto di Sosa per guardarsi attorno e per scegliere qualche altra società per non continuare a Salerno ma mi può entusiasmare questa notizia non lo so non mi entusiasma tantissimo perché secondo me torniamo sempre allo stesso fatto se vuoi tenere la stricella lì ti servono allenatori di una caratura diversa o al limite allenatori che si sono già un tantino affermati soprattutto nel campionato italiano ma può essere può essere sicuramente un jolly come può essere il fallimento totale non vedo non vedo la via di mezzo non vedo la via di mezzo perché non stai puntando su un allenatore che ha già vinto tantissimo sa perfettamente cosa significa allenare in una piazza come Napoli sa addirittura prendersi poi l'eredità lasciata da spalletti pesante con lo scudetto cucito al petto non lo so non lo so e non voglio nemmeno diciamo essere troppo superficiale subito con un giudizio all'inizio perché comunque a livello di calcio giocato ho fatto anche dei video sulla Salernitana nei post partita durante il campionato a me Sosa non è mai dispiaciuto però sono scettico per questa difesa a tre se passa la difesa a quattro e non si smantella la squadra ok però se devi giocare con una difesa a tre il Napoli poi dovrà di conseguenza intervenire sicuramente sul mercato per cambiare qualche tassello perché poi non credo che alcuni calciatori possano rendere lo stesso cambiando modulo quindi è poi una cosa da vedere però diciamo che è una situazione che sta avvolgendo al termine questa telenovela del Napoli comunque se Sosa viene ben venga perché volevo un allenatore in tuta e non volevo un allenatore in giacca e cravatta in primis poi per il calcio giocato non possiamo che essere positivi visto quello che ha fatto a Salerno recentemente con la Salernitana ripeto ha trovato la quadra a Salerno è riuscito ad inanellare tantissimi risultati positivi con la Salernitana pur non avendo un organico comunque per poter competere con le prime dieci dalla classifica perché l'organico non ce l'aveva ed è andato comunque al di sopra delle aspettative a Salerno che sta diventando una società piano piano che vuole dire la sua in serie A è il secondo anno era complicatissimo restare in serie A anche quest'anno e c'è riuscita merito di Sosa ma anche merito della società che con qualche acquisto come si deve e diciamo conti a posto e serietà e progettualità ha fatto sì che restasse in serie A mi sembra che ha fatto 43 punti la Salernitana 42 comunque diciamo che da gennaio a fine campionato è stata una Salernitana anche bella da vedere e mai doma a livello caratteriale questo per esempio è un lato che mi piace di Sosa nel nel momento che dovesse venire a Napoli perché caratterialmente la Salernitana ogni volta che è andata sotto ha sempre recuperato la partita o almeno ci ha sempre provato ed ha sempre creato occasioni pericolose per poter portare il risultato sul pareggio a limite ribaltarla come la partita di Udine passa a Salerno mi sembra comunque Salernitana Udinese 2 a 0 sopra l'Udinese vince la Salernitana 3 a 2 vuol dire che comunque a livello caratteriale riesci ad inculcare un DNA agguerrito ai tuoi calciatori e da questo punto di vista siamo tranquilli ripeto a me l'unica l'unica cosa che mi lascia spiazzato in primis è che non mi aspettavo una notizia del genere ieri soprattutto per quanto riguarda Paolo Sosa credevo che da qui a una settimana uscisse il nome e uscirà sicuramente il nome ma Paolo Sosa non l'aveva nominato nessuno ed è un nome fuori dai pronostici diciamo almeno dal mio punto di vista però non cominciamo a tirare giudizi affrettati non cominciamo a dire la nostra subito senza nemmeno vederlo all'opera se dovesse essere Sosa l'allenatore del Napoli ben venga lo aspettiamo a braccio aperto a Napoli per mantenere lì la sticella perché a livello di tifo e a livello di città è una cosa che si deve sapere perché poi arriveremo che nel caso non arriviamo pronti o ci sia qualche defiance per il campionato prossimo poi cominciamo noi tifosi ad essere scontenti e tutta l'opinione pubblica è ma voi napoletani siete sempre uguali no noi napoletani vogliamo solamente che la sticella venga tenuta lì almeno che ti giochi i primi 3 4 posti in serie A vai in Champions League fai una Champions degna almeno della Champions di quest'anno senza andare indietro quindi gli obiettivi da mantenere ci sono e Sosa forse almeno ci affidiamo alle mani di chi lo sceglierà nel caso dovesse venire può essere l'allenatore giusto per il Napoli speriamo e vedremo se domani se oggi al limite non ci sarà un altro incontro tra De Laurenti se qualche altro allenatore domani mattina saremo qui di nuovo a dire eccolo qua l'allenatore del Napoli sarà Di Matteo vedremo vedremo ragazzi sempre forza Napoli iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao